Il metodo psicoanalitico nasce con Freud, ma Freud si rifà a Socrate, il quale ha sviluppato un nuovo modo di riflettere su come noi pensiamo, mettendo in discussione il significato dei concetti essenziali che noi usiamo tutti i giorni e sui quali non abbiamo mai veramente riflettuto. La domanda di Socrate è come possiamo essere liberi di scegliere senza avere un giudizio critico? Senza giudizio critico rischiamo di vivere secondo i pregiudizi sociali o culturali. Pensate quanto sia moderno questo pensiero. Ne consegue che il male è la mancanza di sapienza o di conoscenza o di coscienza e ne deriva che l'autocoscienza è un bene supremo. Per questo dobbiamo continuamente esaminare la nostra vita per acquisire una nuova conoscenza su noi stessi. Questo è lo scopo della vita per Socrate e potremmo anche dire per uno psicologo. Infatti una vita senza ricerca porta l'anima a spegnersi. Sì ma concretamente Socrate cosa faceva? Come conduceva il suo colloquio psicologico? Bene, Socrate era solito assumere la prospettiva di una persona che non sa nulla e si limitava a fare domande mettendo in luce le contraddizioni nelle argomentazioni al fine di rimuovere ogni preconcetto. Quindi con una serie di domande svelava le convinzioni profonde del suo interlocutore. Poi evidenziava le contraddizioni e infine portava a concordare su una nuova conclusione. Questo è proprio il metodo psicoanalitico che crea una situazione abbastanza perturbante per l'io. Il perturbante è uno stato d'animo un po' inquietante perché destabilizza le certezze dell'io e proprio per questo lo apre al nuovo. Lo psicoterapeuta, come farebbe oggi Socrate, è un alleato del sintomo. Cerca di cogliere i segreti investimenti della psiche, le sue oscure aspirazioni, per dar voce appunto alle parti scisse che rappresentano le voci dell'anima inquieta, dove anima sta anche per inconscio. Ecco allora che il percorso psicoanalitico è un'esperienza di deradicazione rispetto all'io. Deradicazione dell'io perché la coscienza è eretica. La coscienza è eretica in quanto si manifesta sulla scena del mondo come scelta. Scelta. Scriveva Bergson che la coscienza si identifica con il poter scegliere. E soltanto così si pone come principio creativo di realtà. Dunque appare legittimo parlare di una eresia della coscienza che si pone nei confronti dell'identico e dunque del prevedibile come eterogenità, come alterità. Quindi si pone come una differenza. Per Bergson, infatti, non si danno mai nella coscienza eventi identici. Eventi tali da consentire la prevedibilità di altri eventi, anche essi identici. Dove c'è identità c'è prevedibilità. Mentre il luogo proprio dell'io è costituito dall'imprevedibilità del divenire. Per questo si chiama libertà il rapporto tra l'io concreto e l'atto che l'io compie. Questo rapporto è indefinibile, proprio perché noi siamo liberi. Infatti si può analizzare una cosa, ma non un progresso. Si può scomporre l'estensione, ma non la durata. La coscienza è dunque irriducibile. E questa sua irriducibilità costituisce una difesa della creatività, oltre che un ulteriore motivo del suo porsi come eretica. La coscienza è eretica perché progetta differenze. La coscienza è eretica perché impone la differenziazione dall'ortodossia dei luoghi comuni sociali. La dimensione creativa può realizzarsi soltanto all'interno di una personalità impegnata in un processo di differenziazione dal collettivo. Io sostengo che la dimensione creativa rappresenta un salto qualitativo che appartiene sempre all'individuo. Dunque è sull'individualità che noi dobbiamo lavorare. Nel lavoro terapeutico questo tipo di dimensione creativa può nascere e manifestarsi liberamente. Sviluppo creativo della coscienza egoica significa che in un processo millenario il sistema della coscienza ha assimilato, espandendosi sempre di più, i contenuti dell'inconscio. Ora, è appunto l'individuo il portatore di questo lavoro creativo. Ed è dunque l'individuo il fattore decisivo di ogni sviluppo. La creatività vanta una posizione libera rispetto ai cosiddetti canoni collettivi. Molti di noi si sono probabilmente imbattuti in quei giochi psicologici nei quali si chiede di individuare le differenze di misura tra due misure. Si può provare a fornire un'indicazione, ma in realtà qualunque essa sia è falsa. È falsa per la semplice ragione che ci si viene a trovare di fronte ad una illusione ottica. In questo caso noi siamo soggetti ad un meccanismo percettivo che ci spinge a vedere in un determinato modo. Ecco, con i pensieri avviene la medesima cosa. Ognuno di noi è sottoposto ad un gioco di prospettive che lo induce a pensare sempre allo stesso modo. La persona creativa quindi deve fare uno sforzo per divincolarsi da questa coercizione. Ora, la prima forma di libertà che dobbiamo acquisire è relativa alle forze istintive dell'inconscio. L'evoluzione umana ha comportato la possibilità di differire la risposta agli stimoli che attivano un comportamento istintivo. Mentre nella dimensione animale stimolo e risposta si succedono velocissimi. Se si ha paura si fugge oppure si attacca mentre nella dimensione umana c'è la capacità di valutare lo stimolo e quindi di scegliere una differente risposta. Quanto più lungo è questo lasso di tempo tanto più noi siamo liberi di fronte allo stimolo. Come ho già accennato in un altro video un altro processo che ci consente di raggiungere la nostra libertà interna è la trasformazione dei legami primari. Nessuno può sfuggire a questa dimensione ma è compito della coscienza voltare le spalle a ciò che trattiene nella plenitudine infantile. Tutto ciò appare bene semplificato nel mito della nascita dell'eroe. In primo luogo bisognerà dire che il mito della nascita dell'eroe riguarda da vicino ognuno di noi. L'eroe di cui sempre si parla è, per usare un'espressione di Freud, sua maestà Lio. Lio. Infatti è proprio Lio l'abitatore presunto del centro ma riesce ad abitare il centro Lio? No, in quanto il centro è un miraggio è un'illusione ottica. E allora, intanto iniziamo a dire che la nostra nascita diventa una fonte di disprezzo per gli altri perché l'eroe è esposto alla gelosia e all'invidia e quindi alla calunnia. Potremmo affermare che ancora prima di nascere noi veniamo traditi. Siamo traditi perché quello che doveva diventare il nostro Io viene sottoposto prima che abbia il tempo di emergere come Io viene sottoposto a molteplici fantasie di appropriazione da parte dei genitori. Queste fantasie di appropriazione si rivelano in realtà esproprianti perché ci vorrebbero in luoghi che non ci appartengono. Vorrebbero per noi destini che non ci siamo scelti e vorrebbero compiti che non sono i nostri. Non a caso un profeta è disprezzato in patria, no? Come dice il detto. Proprio tra i suoi parenti a casa sua. Profeta è colui che anticipa il sopraggiungere degli eventi. Dunque la differenza sembra essere quella che intercorre tra l'essere parlati e il parlare. Tra l'essere autorizzati a dire e il porsi come autori del proprio dire. Che significa? Quindi il famoso detto che spesso ci ripetiamo nemo profeta in patria. Rank si è occupato di questa questione e risponde affermando che esiste un'antica legge secondo cui il profeta deve rinnegare i propri genitori. Per esprimerci secondo il nostro registro diciamo che se nell'atto di nascere siamo stati traditi e continuiamo ad esserlo in svariati modi dovremo a nostra volta tradire. Dovremmo in altri termini andare là dove siamo profeti. Questo luogo dove noi parliamo e non siamo parlati secondo quanto afferma Gesù in un passo citato da Marco non è la patria. Non si trova tra i parenti. Non corrisponde alla casa dei genitori. ed è anche per questo che parliamo di una eresia della coscienza. Eretica è la coscienza perché tradisce. E anzi solo a condizione di tradire la coscienza può procedere lungo il proprio cammino. Quando tradisce infatti la coscienza crea crea. occorre ricordare comunque che i legami primari non si spezzano soltanto nella dimensione concreta della scelta dell'autonomia perché questi legami sono profondissimi e sono inconsci e noi dobbiamo lavorare sulla nostra interiorità. Il processo di sviluppo che Jung definisce processo di individuazione permette di sganciarsi dai legami interni ed esterni che ci rendono dei conformisti per diventare appunto degli individui. Perciò si tratta di acquistare una forza autonoma senza più il bisogno di ricevere forza dagli altri. Oggi si cerca di progettare un tipo di energia pulita che non ha più a che fare con la disintegrazione dell'atomo ma con la fusione nucleare. Bene quest'ultima avrebbe un'autonomia praticamente inesauribile. L'autonomia psicologica di cui parliamo presenta la stessa inesauribilità. Una volta però che i legami primari siano stati interiorizzati perché questa energia appoggia su un fondamento interno. Essere economicamente indipendenti sul versante concreto dell'autonomia è una grande forza perché molti conformismi molte situazioni a cui noi siamo sottoposti nel corso della vita trovano un velenoso incremento nell'incapacità di provvedere a se stessi e quindi ai propri bisogni basilari. L'autonomia economica è un segno di grande libertà interiore perché smettiamo di orientare le nostre scelte affettive nella direzione della dipendenza ma l'indipendenza economica se non è accompagnata da una reale indipendenza psicologica è del tutto superficiale. Esiste una grande angoscia che a mio parere domina l'essere umano la paura della diversità per esempio prendiamo un riferimento banale la moda gli stilisti decidono una certa linea e la maggioranza delle persone cercherà di adeguarsi questa spinta ad uniformarsi si basa su una dimensione psicologica potentissima che gioca sulla paura di essere diversi la paura di essere diversi è la paura della follia ed è la paura dell'isolamento ma essere individuo è anche essere diverso i grandi quelli che lasciano la propria impronta nella nostra cultura sono coloro che hanno visto le cose in maniera originale quando Van Gogh vede il cielo rosso e lo dipinge rosso è costretto a pagare per la sua diversità è costretto a morire quando Galileo afferma che la terra non è al centro dell'universo l'inquisizione lo deve far tacere perché quello che egli propone rivoluziona il modo di pensare della gente e questo non può essere accettato chi dice la verità è sempre un rivoluzionario perché si oppone alla comune rappresentazione del mondo chi rimane agganciato al collettivo non si può differenziare e quindi resta anonimo in ogni caso chi formula un linguaggio diverso dovrà assumersi sulle proprie spalle tutta la responsabilità la maggior parte della gente ripropone inconsciamente nel rapporto con gli altri e con il mondo quegli stessi legami primari dell'infanzia poiché non si cerca altro che di essere riconosciuti e sorretti noi cerchiamo quel conforto che ricevemmo un tempo o che non abbiamo mai ricevuto neanche dalla nostra famiglia in realtà il problema della diversità ci spinge verso quella dimensione di liberazione che ci permette di realizzare l'unica cosa che conta cioè la nostra individualità vedete noi possiamo essere testimoni soltanto di noi stessi in quanto individui perché soltanto la diversità e quindi il coraggio di essere diversi rende autentica la presenza di ciascuno di noi la capacità di essere profetici comporta un grande fardello di sofferenza le persone che soffrono e che noi chiamiamo comunemente nevrotici sono persone che dispongono di questa capacità del loro disturbo si potrebbe dire che agisce come se fosse una radio ricevente potentissima in grado di captare onde che vengono da lontano cioè dal futuro quello che poi la persona in maniera più o meno cosciente trasmette all'esterno però viene rigettato dall'ambiente e quindi rifuggito il primo disprezzo viene dalla famiglia poi dal gruppo successivamente la diversità può essere pagata con la follia uno psichiatra inglese lying ha scritto moltissimo in riferimento a questo tema lui dice che la funzione della famiglia è quella di reprimere l'eros è quella di produrre una falsa sensazione di sicurezza e quindi è quella di evitare l'esperienza del vuoto in breve la funzione della famiglia è quella di creare l'uomo ad una dimensione e cioè è quella di incoraggiare il rispetto e il conformismo quindi l'ubbidienza cioè instillare la paura di fallire oppure la paura della rispettabilità così dice lying morale del discorso viviamo in un mondo nel quale per impiegare una frase di heidegger il terribile già avvenuto per questo heidegger parlava di un costitutivo essere gettati nel mondo noi potremmo dire che il tradimento è già avvenuto ora seguendo la soluzione dell'individualità non si può che accettare la possibilità del rifiuto purtroppo non possiamo sfuggire a questo tipo di destino perché ognuno di noi ha un compito un solo compito scrollarsi di dosso tutta una serie di condizionamenti che ha subito da quando è nato e allora così come noi impariamo a parlare in maniera spontanea e automatica allo stesso modo assimiliamo aspetti psicologici che non sono nostri e che provengono dall'ambiente la nostra diversità è seppellita sotto i condizionamenti e rimane come un nucleo di potenzialità originarie da sviluppare nello sport ad esempio un buon allenatore è colui che capisce le potenzialità del nostro fisico e ci suggerisce di seguire un'attività piuttosto che un'altra noi dovremmo allenarci nella direzione secondo le modalità che potenziano la nostra costituzione di base e non forzando un'attitudine che non abbiamo l'analista svolge la stessa funzione ha il compito di riabilitare l'unicità della nostra persona per questo occorre una vita intera e si tratta di un processo che non ha mai fine a questo riguardo Jung affermava che non esiste un minuto della nostra esistenza che non abbia senso ogni età ha senso e noi dobbiamo capirlo questo tipo di realizzazione diciamo così permanente impone al soggetto di assumersi la responsabilità della sua vita questo è il vero senso della creatività cioè l'abbandono degli schemi che non ci appartengono si può allora comprendere l'importanza che questa proposta può avere per la persona che soffre quello che conta è la proposta di una realizzazione individuale su questa proposta si può basare il vero concetto di creatività e si tratta di un compito che però non ha mai fine vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia telefoniche o via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 1692 473 specificando il nome il cognome e gli orari preferiti potete visitare anche il mio canale youtube dove troverete oltre 350 video su divisi in playlist sono presente su facebook dove ho fondato un gruppo intitolato psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia in bocca al lupo e buon anno grazie a tutti a presto